In generale vorrei rassicurarti sull'uso che faremo dei tuoi dati, specie quelli sulla tua salute. Innanzitutto non li condivideremo mai con nessuno, saranno usati in forma anonima dal sistema di intelligenza artificiale EICLEPIOS per generare il tuo manuale con l'elenco delle sostanze più adatte a te, in ordine di importanza. Sono Fulvio Dominici Carnino, presidente del movimento Estensione Vita. I tuoi dati sono conservati in un data center, un centro elaborazione, in Europa e sono crittografati, il che vuol dire che nessun altro li può vedere e se anche li vedesse non potrebbe capirci niente, in modo da garantire che non possono finire nelle mani sbagliate. Se vorrai potrai cancellare tutti i tuoi dati in qualsiasi momento e distruggeremo tutto. Se vorrai poi cambiare idea dovrai così ricominciare tutto da capo. Per qualsiasi questione riguardo ai tuoi dati e a cosa ci facciamo puoi sempre mandarci una email a info-movimento-estensionevita.org. Purtroppo non è detto che andrà tutto bene e potresti non poter entrare nel programma. Come mai? Dipende dalla tua situazione specifica. Se hai certe patologie o altri indicatori che un percorso anti-age per l'antinvecchiamento non sia la cosa migliore per te adesso dovrai malincuore non farti entrare nel programma. Se non potrai entrare però non tutto sarà perduto. Se le cose cambieranno nella tua situazione potrai ritentare rifacendo l'intervista in qualsiasi momento. Tutto questo percorso è gratuito. Ho personalmente molto lavorato e persino combattuto perché sia così e lo rimanga per sempre. Penso che il movimento Estensione Vita e il programma 150 anni non debbano mai essere un business. Chi vorrà entrare nei gruppi di acquisto farà girare dei soldi certamente perché ho sempre pensato che chi lavora debba essere pagato in modo equo e onesto e chi produce integratori e tutti coloro che fanno girare le nostre piattaforme è giusto che siano ritribuiti in proporzione al loro lavoro. Ma io pur essendo un imprenditore non voglio lucrare sulla legittima aspirazione di tutti ad avere una vita molto più lunga e prospera. Per tutti questi motivi il programma 150 anni è e sarà sempre gratuito nella sua versione base. Versione che comprende la mia divulgazione sempre aggiornata di tutte le novità del mondo dell'anti-age, dell'anti-svecchiamento, la piattaforma Eclepios, il trattamento dei dati delle persone nel modo più corretto su sistemi informatici molto potenti e quindi molto costosi e la generazione del manuale per i prossimi 100 anni per ciascuno, aggiornato ogni 3 mesi, per sempre. Potrai poi decidere tu se acquistare i prodotti che contengono le sostanze indicate, dai fornitori che ritirai più adatti. Noi non vogliamo niente da te per tutto questo. Arriviamo fino a darti non solo l'elenco, una cosa che i pochi professionisti in grado di farlo nel mondo vendono a migliaia di dollari ed è anche difficilissimo arrivarci, ma l'ordine di importanza. L'ordine di importanza è, a sua volta, estremamente importante. Non lo produce nessuno, solo noi. Se vorrai comprare prodotti che contengono le sostanze indicate dovrai decidere un budget, quanti soldi al mese investire sulla tua salute e l'estensione della tua vita. Io credo sia l'investimento più importante che chiunque possa fare, ma è solo la mia idea. Se poniamo dovessi pensare a dedicare 100 euro al mese, cosa dovresti comprare? Su 10 prodotti magari potresti prenderne solo 4. Quali di quelli elencati? Ecco che l'ordine di importanza fa tutta la differenza del mondo. Parti dall'alto e vai giù finché finisci il budget. Quello è meglio che puoi fare per te nelle condizioni date. E ti ripeto che non ci pensa nessuno a farti questa cortesia. Solo noi. Allo stesso modo i gruppi di acquisto, se vorrai, ti consentiranno di comprare ai prezzi più bassi possibili prodotti che sceglieremo noi come i migliori sul mercato. Prodotti che non facciamo noi perché questo non è un business ma un servizio del quale mi sento personalmente responsabile. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere MEV.CX su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno. Utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che il Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi tenti con nessuno. Quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere parlandone sempre col tuo medico di fiducia perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di guaderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age e dell'anti-invecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente. Quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo scrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con colore ai quali tieni di più. Mi fa personalmente molto piacere leggere i commenti. Partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento. Noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto. Grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Prima di tutto, lunga vita e prosperità. Grazie. 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 Grazie.